Ringrazio della segnalazione, io ne sono a conoscenza perché mi avevano avvisato anche altri consiglieri. Abbiamo una ditta in appalto che gestisce l'illuminazione pubblica ed è la Marostica Lighting con la Carola Impianti. Vi chiedo gentilmente di chiamare il numero verde. Se non doveste avere risposta in tempi veloci e congrui alle segnalazioni che mandate, vi chiedo di inviare una segnalazione scritta al Comune. Quindi scrive direttamente a me, ma metterlo per iscritto può essere anche anomia tranquillamente perché poi io la prenderò e la protocollerò. E questo perché? Perché con la ditta abbiamo un contratto dove ci sono dei tempisti che da rispettare e non ci possono essere determinati servizi. Nel caso ci fossero vengono applicate le penali.